Ciao a tutti, ben ritrovati. Prima di cominciare vi ricordo che oggi e domani ci sono gli Amazon Prime Days. Centinaia, migliaia, milioni, miliardi di prodotti in offerta di qualunque tipo su Amazon, soltanto oggi e domani. Vi invito a utilizzare il link che trovate subito e immediatamente in descrizione qua sotto per supportarmi. Quindi dal vostro punto di vista non cambia assolutamente niente, non pagate un centesimo in più. Quindi vi invito veramente caldamente ad utilizzare il link sottostante. Come vi invito anche ovviamente a iscrivervi al canale, mettermi un like, lasciare un commento, guardare il canale Telegram di offerte fotografiche che trovate sempre sotto in descrizione, dare un occhio al mio canale Instagram e magari mettere un follow, un like, un commento, quello che vi pare. Così come anche potete lasciare commenti, consigli, domande, tutto quello che volete qua sotto. Cerco di rispondere più o meno a tutti il tempo permettendo. Dopo questa lunga premessa arriviamo al dunque, argomento più o meno della giornata. Dunque, è un argomento di cui avrei già voluto parlare, ma quanto costa effettivamente un fotografo? Cioè un fotografo professionista, stiamo parlando, non il fotografo amatoriale, cioè qualcuno che lo fa proprio di lavoro. Allora, in Italia non esiste un'associazione, questa è una questione che va avanti oramai da tantissimi anni, non esiste un sindacato, non esiste un'associazione riconosciuta statalmente, quindi sostanzialmente ognuno può fare quello che vuole. Cioè, chiunque, ma chiunque veramente, un ragazzino di 14 anni come può essere una persona di 60 anni, 70, può andare al Media World, lo indico perché è da quella parte, andare a comprarsi una fotocamera che può essere quella che trovi in offerta a 300 euro con 18-55 Canon e Nikon, bene o male trovi quelle negli scatoloni, la tira fuori, impara un pochino a schiacciare qualche pulsante e poi può dire, faccio il fotografo, quindi mi posso far pagare. Tralasciando il discorso fiscale, quindi che per essere un fotografo professionista devi comunque avere ovviamente una partita IVA, però è una cosa che normalmente non è che uno ho bisogno di un fotografo, ok fammi vedere la partita IVA, uno può tranquillamente andare in giro e dire io faccio il fotografo e non avere comunque la partita IVA. Perché? Perché comunque ci sono anche diverse tipologie di clienti e l'ignoranza che gira intorno alla fotografia è ancora abbastanza alta. Cosa succede? Che queste tipologie di clienti si possono bene o male classificare in tre fasce, grosso modo, più o meno, ok? Il cliente che vede le tue foto, vuole le tue foto, quindi si fa fare un preventivo da te e tu devi cercare di accontentarlo, capire cosa vuole, capire quanto può spendere e venire gli incontro. Quindi c'è una trattativa in corso, perché? Perché vede le tue foto e vuole avere quel tipo di foto. Questo è il cliente forse più semplice, perché è un discorso di carattere economico, cerchiamo solo di venerci un pochino incontro. Se costi troppo il cliente lo perdi, ma nel linea di massima un accordo lo si trova, più o meno. Poi c'è il cliente che vuole un fotografo, cioè, forse è il peggiore, quello che guarda solo quanto costa, ok? Quindi non guarda quello che tu stai facendo, ma guarda soltanto quanto costa la fotografia. Quindi io ho bisogno di 10 foto a foto per 10 prodotti, quanto mi costi tu? Mi costi 100, mi rivolgo un altro, quanto mi costi? Mi costi 80, ok, prendo te. Però non va a verificare effettivamente quali sono le reali capacità di uno e dell'altro. E in questo caso capita che chi spende magari di meno non ottiene effettivamente quello che avrebbe potuto ottenere spendendo quel poco di più, cioè spendendo 100. In realtà poi la terza tipologia di cliente, cioè quella che sta a guardare effettivamente perché uno costa 100 e perché l'altro costa 80, forse è il cliente più accorto, però in qualche modo cerca di capire se quelle foto da 80 euro valgono 80 euro, e se invece quelle foto da 100 valgono magari qualcosina di più e spesso ci si affida soltanto comunque all'intuito personale, al gusto, quelle foto potrebbero rispecchiare il mio prodotto, quindi anche l'impatto che potrebbe avere sui miei potenziali clienti. Quindi queste sono quelle che ho riscontrato io di tipologie di clienti. Fatemi sapere se ne avete trovati altre di clienti, di tipologie di clienti. Ovviamente stiamo parlando sempre di nuovi clienti, non quelli con cui si lavora da tempo. Come dicevo prima, purtroppo non ci sono delle associazioni riconosciute. Questo significa che ognuno pratica il prezzo che vuole. Ma come faccio io a calcolare quanto chiedere a un cliente per quel tipo di foto? Costo a foto? Costo a tempo? Costo forfè? Sparo una cifra a caso? Chiedo qual è il budget? Allora, di base, sì, spesso chiedo anche qual è il budget, perché comunque il discorso qual è? Che il cliente ha un budget, sempre, cioè nel suo immaginario c'è un costo per il fotografo. Ma la realtà qual è? Che questo costo è praticamente sempre più basso di quanto non sia la realtà. Quindi mi faccio dire prima dal cliente effettivamente qual è il suo budget e poi cerchiamo di venerci incontro e capire qual è più o meno la quadra che si può raggiungere tra la domanda e l'offerta. Ma nel preventivo che comunque io mando, comunque che si dovrebbe mandare, bisogna tenere presente quali sono i reali costi vivi che si hanno in fotografia. E qui mi rivolgo non tanto a miei colleghi, ma a chi magari di fotografia usufruisce, non che produce, ok? Allora, io con alcuni clienti che comunque ogni tanto ti danno un pochino da tribolare, faccio sempre un conto molto pratico. Allora, togliamo il mio lavoro, che lo calcoliamo dopo, cioè proprio il mio lavoro, il mio tempo impiegato, che potrebbe essere quello, non so, di un muratore che mi deve tirare su un muro, il suo tempo è quello che poi lui guadagna, perché poi, quello da cui guadagna, perché poi comunque tutto il materiale viene dopo. C'è ovviamente sempre un ricarico anche sul materiale, questo mi sembra più che normale, però il lavoro principale deriva dal tempo. Con il fotografo non è molto diverso. Quindi, se devo fare un lavoro di mezza giornata, stiamo proprio con lavori piccolini, mezza giornata, io calcolo che, dovrei teoricamente calcolare che ho bisogno di quanto, parliamo di eventi, parliamo di foto still life o di ambiente, quanto materiale devo portare. Diciamo che mi devo portare una macchina fotografica e due obiettivi, quindi tre pezzi, che teoricamente io vado a noleggiare, perché io non ho macchine fotografiche, non ho niente, facciamo finta che non abbia niente. Vado l'FCF, diciamo che più o meno saranno 150 euro di noleggio, roba piccola, roba piccola, magari raggiungiamo anche i 200 euro. Diciamo che con la gestione del tutto arriviamo a 200 euro. Cos'è la gestione? Il fatto che comunque io debba in qualche modo contattare, reperire, farmi spedire, piuttosto che andare a prendere il materiale, quindi anche quello è un costo che c'è, vivo, è un costo vivo. Quindi sono 200 euro che il cliente deve spendere, soldi esclusivamente per il fatto che io ho una fotocamera e due obiettivi. Attenzione, una fotocamera e due obiettivi. Basta, niente flash, niente allestimenti, niente studio esterno, niente di niente. A quello ovviamente si va ad aggiungere cosa? Il fatto che io ci devo guadagnare qualcosa. Quindi il mio costo, il mio tempo di mezza giornata per fare le foto avrà un minimo costo, no? Diciamo che rimango proprio basso basso, chiedo 200 euro. 200 euro, attenzione, sono 200 euro lordi, quindi tassati ti rimangono poco più di un centinaio di euro, ok? E siamo già a 400 euro. Però manca la post-produzione che comunque ti imponi di non esagerare anche con i tempi perché comunque devi dare cioè non puoi perdere tanto tempo su 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 lavori così piccoli, no? ti devi imporre comunque delle tempistiche. Diciamo che anche lì parte una mezza giornata tra una cosa e l'altra e anche lì quanto chiedi 200 euro per un'altra mezza giornata più o meno siamo a 600 euro scusate 600 euro di fattura. A tutto ciò dobbiamo aggiungere cosa? Tutti i vari costi che vengono che ti gravano comunque sull'attività che sono la gestione della tua partita EVA la gestione del tuo studio l'elettricità lo stoccaggio comunque delle immagini perché tu tieni dentro anche nel tuo computer tutte le immagini possibili immaginabili gli attacchiamo un altro 100 euro ed ecco che per mezza giornata di lavoro così come viene percepita dal cliente saltano fuori 700 euro 700 euro per mezza giornata di lavoro ora è spannometrica molto 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 spannometrica come misura e accidenti alcuni clienti soprattutto quelli nuovi si possono ribaltare chiedendo 700 euro non stiamo parlando di grosse aziende perché non parliamo di grosse aziende parliamo di aziende medio piccolo ok ci sono delle grosse aziende dove spendere 700-800 1000 euro al giorno non è un grosso problema ma la realtà è che la fotografia non è fatta solo di grossi lavori grossi aziende grandi prodotti e grandi numeri è fatta anche da piccoli numeri da piccole aziende e da piccole realtà che per spendere 700 euro al giorno si ribaltano ok il discorso cambia quindi possiamo dire che avendo noi acquistato delle macchine fotografiche che comunque dobbiamo ammortizzare quindi avremmo fatto un piano di ammortamento diciamo che le macchine fotografiche e gli obiettivi che abbiamo preso ci durano quantomeno le macchine fotografiche ci durano almeno due anni quindi questi due anni dobbiamo ripartire il costo delle nostre macchine fotografiche in 365 giorni per due e capire quant'è il costo giornaliero moltiplicarlo per un tot perché comunque le nostre macchine fotografiche rimangono ferme e attaccarlo al nostro cliente al lavoro del nostro cliente quindi cosa succede che magari non sono più 200 euro di come dire di noleggio cosa tra l'altro plausibile ci sono dei fotografi li conosco che fanno solo noleggio loro non hanno proprietà noleggiano ma a volte dicono anche ai clienti noleggiamele tu così paghi tu vedi tu quanto costa scarichi tu al 100% non è un problema e in quei casi il cliente effettivamente si ribalta a capire che ci sono effettivamente dei costi tornando al nostro discorso ed ecco che cosa succede che non sono più 700 euro ma tornano magari a essere 600 più o meno ed ecco che il costo giornaliero più o meno è di 550 600 euro perché abbiamo una mezza giornata di lavoro e una mezza giornata di post produzione il costo giornaliero del lavoro post produzione che spesso e volentieri non viene compresa assolutamente dal cliente cioè che purtroppo come dire i vari Instagram e le varie app hanno deviato quella che è la concezione l'approccio alla post produzione da parte delle persone comuni per cui il risultato tu lo ottieni soltanto con un click tu hai fatto un click e hai ottenuto quel tipo di fotografia infatti a me capita alcuni clienti che mi dicano applica un filtro togli quel filtro non sapendo minimamente di cosa di cosa stanno parlando il discorso non cambia però perché da 700 a 600 la cifra non è alcuni clienti si ribaltano ed ecco perché in soprattutto nel 2019 quando hai come dire quello che può andare effettivamente al Bindi Award a comprare la macchina fotografica e ti esce a 200 euro ecco che proporre a un cliente un lavoro per 500 euro al giorno comincia a essere anche abbastanza pesante ma la realtà è che a te rimane attaccato ben poco di questo ok quindi il costo del fotografo di per sé è molto legato anche a quanta strumentazione ha quante spese ha infatti la politica di molti fotografi è proprio questa cioè contenere le spese di modo da contenere anche i preventivi a tutto ciò dobbiamo anche poi come dire tenere presente la trasferta se si tratta di fare 10 chilometri possiamo anche ignorare quello che sono i costi di trasferta se dobbiamo fare 80-90-100 i costi di trasferta bisogna pure applicarli in qualche modo quindi i 700 euro iniziali comunque diventare 750-800 senza niente senza senza far granché ed ecco che i costi li evitano veramente tanto ed è presto fatto questa è una cosa che molti clienti non capiscono e purtroppo ci si scontra effettivamente con quella che è la concorrenza atroce di chi è andato a comprare una macchina fotografica e lavora con 18-55 non vi nascondo che ora la mia fortuna è anche di avere dei buoni clienti nel senso che comunque clienti che hanno già provato chi è andato a comprare la macchina fotografica al media world clienti che invece sono di un certo livello quindi anche gli iter burocratici per farsi approvare un preventivo diventano abbastanza macchinosi ma hanno bisogno di un certo risultato perché hanno comunque un certo prodotto da offrire quindi non soltanto un come dire un contenimento di costi non hanno soltanto quell'obiettivo ma hanno l'obiettivo anche di mantenere una certa immagine ovviamente però purtroppo la realtà è che comunque si lavora ovviamente a diversi livelli nel senso che comunque non sono un fotografo di quelli che fa soltanto alta moda o faccio soltanto chissà cosa lavoro anche con realtà tutto sommato anche abbastanza piccole a volte sono io il primo a dire che non è necessario un fotografo perché non è assolutamente necessario un fotografo non sono di quelli che devo portare a casa il lavoro a tutti i costi non mi piace fregare la gente quindi a volte un fotografo non è assolutamente necessario a volte comprare delle foto stock è molto più economico e in tal senso mi piace fare anche risparmiare un pochino le persone mi piace essere comunque trasparente alla fine cos'è che non vi ho detto non vi ho detto effettivamente quanto costa un fotografo ma la realtà è che nessuno non è uno di quei video come ce ne sono tanti dove vi rivelerò i segreti dei costi eccetera no perché comunque il tutto è legato alla propria alla propria esperienza cioè ci sono fotografi che magari per farti solo uno scatto ti possono chiedere 100-200 euro per un solo scatto c'è un fotografo di sud di Milano adesso non è molto in attività penso che abbia intrapreso altre vie è un fotografo di food il suo studio è una cucina scatta con Hasselblad e quindi già i costi di fotografia sono molto molto alti da ammortizzare e una sua foto che vengono le sue foto vengono utilizzate anche nei libri di cucina una sua foto costa costava intorno ai 500 euro una singola foto perché perché le sue foto sono molto costruite bene un esempio la mortadella la mortadella ok non è che veniva fotografata così clic e sono 500 euro fetta di mortadella fetta di pistacchio fettine di pistacchio tagliate perfettamente e il pistacchio in post produzione viene montato sulla mortadella per ottenere una fetta di mortadella assolutamente perfetta con un'esposizione assolutamente corretta sia sulla parte di carne che sulla parte di pistacchio un esempio quindi anche certi lavori sono molto difficili da realizzare e questi lavori come dire devono essere comunque pagati quindi le sue skill costano se andate a prendere un fotografo di matrimoni come potrebbe essere Cristiano Stinelli si fa sicuramente pagare il doppio il triplo di quanto non potrei chiedere io ma i suoi risultati le sue skill le sue esperienze sono ahimè molto molto più alte lui è un fotografo matrimonialista molto 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 dentro nel settore rispetto a magari altri fotografi che anche come post produzione probabilmente ci lavorano anche di meno non è falsa modestia ci mancherebbe tra l'altro voglio dire come si dice spesso la modestia è la peggior forma di presunzione e quindi anche il tipo di costo che si fa si va a far gravare sul cliente è molto rapportato a quello che effettivamente tu hai come bagaglio di esperienze e qui e qui questo magari ne parleremo in un altro video e qui come dire bisogna tenere presente effettivamente quali sono le proprie capacità spesso c'è una specie di analfabetismo funzionale nei fotografi per cui non si riesce ad andare oltre alle proprie fotografie quindi le proprie fotografie sono dei capolavori quello è e gli altri non mi capiscono la realtà è che se prendi le tue fotografie e le confronti con altre dello stesso genere capisci che ci sono sicuramente delle mancanze e hai bisogno ancora di progredire abbiamo buttato lì numeri più o meno a caso grosso modo cifre molto a caso in realtà non vi ho detto effettivamente quanto costa un fotografo però vi ho detto che i costi di un fotografo non sono assolutamente quei pochi che uno si può si può immaginare per oggi è tutto come al solito ci vediamo al prossimo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanella dare un'occhiata ai vari link che trovate sotto in descrizione alla prossima ciao